Mi piace questa madame, proprio mi piace tantissimo, faccio tifo per lei, è il mio genere di musica Mio genere della musica Grazie, grazie Questa sì che è forte, proprio mi piace come si muove, come si ingobba lo sguardo Su sguardo mi piace Pazzesco Mademoiselle, questo olio, guardate, questo per estate è pazzesco, vi dà profumo e vi dà corpo molto molto liscio Questo ce l'ho a casa, mi è rimasto poco poco, bottiglietta ce l'ho ancora Questo è pazzesco, da comprare assolutamente, c'è anche emozione, non costano tanto Però per estate questo qua, quando esci fuori, sei scoperta, ecco, 62 euro si può comprare Pazzesco, questi profumi Diversi ci sono E questo emulsi, io ce l'ho a casa, 61 euro, quello all'Ure Chanel Pazzesco, per estate amici, per estate, quando corpo scoperto, come ho detto io E vi dà profumo e vi dà pelle molto luminosa, molto bella Questo conosco, non mi piace C'è profumo questo qua, che io ce l'ho da donna, qui da uomo 130 euro costa questo E ho pagato 98, conviene comprare a Livigno Conviene comprare proprio 30 euro meno Amici, sono qui nel pop e ho visto questa qua Pelce, che è molto molto bella Ultimi due, ora una voglio prendere Guarderò quale Forse questa qua Perché mi serve per cambiare l'ingresso, ce l'ho stella di Natale ancora Un pochino qui Una fiata, un po' vecchia In senso che ce l'ha mesi, mesi, mesi Però troppo bella Ve l'ho presa Pancetta senese Questa è la nostra specialità Ho presa anche questa pelce Che meravigliosa Andiamo alla cassa, vediamo a vedere Abbiamo fatto a fare questo qua, coccolino Cuccolino, voglio che fa coccole Flanella, quella migliore Quella morbida, morbida Altissima qualità Perché il mio completo letto di flanella Voglio coccole inverno, amici Tanti coccoli voglio Voglio morbidezza e voglio dormire bene Andiamo alla cassa Amici, guardate quanti trappunti ci sono qua Gabel è migliore questa qua Migliore trappunta che c'è Guardiamo prezzo Guardate, il momento di comprare Di comprare coperte Perché altissima qualità Due piazze Vedete il prezzo? Non devo ripetere io Ci sono anche Anche questo prezzo Così Gabel è numero uno No numero uno Uno dei tre migliori marchi italiani Guardate voi Guardate voi Conviene Conviene Soprattutto oggi Se non comprate oggi Domani pagate un prezzo Pieno Guardate voi Amici Questa altra marca Questa qua Questa marca Questa ancora migliore 95 euro Pagate Di altissima qualità Caldissima Caldissima E molto leggera Ecco Gabel Elegante C'è più scura Prego A fare Andiamo Giada Ecco nostra questa qua Perché volevo flanella Non ce l'ho ancora io Flanella Io ho presa questa mia 35 euro da 90 Ma questa flanella Altissima qualità Perché ci sono figli Che costano poco Giada tieni dai Tieni aiutami pochino Ce l'hai 30 anni Eh Andiamo a vedere qua ancora Ecco questo qua 50 più 20 per cento Su tutti i trapunti Giada molto tranquilla Quando qui con me In questo negozio Grazie Grazie Arrivederci Andiamo Giada Assistenta Andiamo 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 Abbiamo fatto affare Amici Abbiamo fatto affare Giada è mia assistente preferita Lei piace molto girare per negozi Che come me Piace toccare Piacciono colori Vero Giada Che passiamo bene il tempo Amici In sia forte nostra E abbiamo comprato questo qua Questo sacco Flanella quella buona Matrimoniale Giada Io voglio dormire bene Saluto amici Giada sei triste? No È troppo caldo Giada mettiamo qua questo Mettiamo qua Questa roba di Yaki ancora Vi ricordate? Ora devo dare Devo chiamare Mi chiama lui Tutta roba pronta per lui Basta Mettiamo qua Giada Sorridi Brava Amici facciamo merenda Giada fa merenda Non lo so che cos'è Giada che cos'è? Ce lo fai aprire O devo aprire io? E mamma ha dato merenda qualche volta da pizza Oh brava Brava Amore Hai aperto Dai a me Carta c'è Carta non c'è Ammanaggia Non c'è carta Non c'è carta Amici Ora devo trovare carta mia Ma Perché qui Problema Non sporcare Maglione Giada Attenta Ce l'ho carta io o non ce l'ho carta? C'è male perché In macchina ce l'ho carta Perché per me in macchina Più importante avere bottiglie di acqua Che io ce l'ho sempre Finita ma ce l'ho sempre questa qua O quell'altra Dove anche l'altra ce l'ho Comunque ce l'ho acqua sempre i fazzoletti Questo per me è numero uno Non deve mai mai mancare perché mi sono Arrabbio molto se mio uomo non ce l'ha i fazzoletti questi qua Giada Mio uomo quando viaggiamo deve essere sempre fazzoletto perché mi serve anche acqua Amore Non sporcare perché pomodoro Giada non sporcare perché qui c'è pomodoro Dammi questa carta qua È affamata lei Giada Sei affamata così Lei è gelosa di panino Vero che nascondi? Dammi carta Dammi Giada Succede così perché sua mamma tante volte Lei mangia Mangerebbe tutto in casa Tutto tutto Ma mamma qualche volta leva E non dà da mangiare tutto Se no come fa? Fa ingrassare Ti arrabbiare Giada E per questo lei ce l'ha questa abitudine Carta Giada Amore no Lasciamo Lasciamo perché C'è anche il succo di frutta Prima beveva un po' Questo ancora per te Ma sei a fame così? Amore A pranzo hai mangiato Lei è autistica Vedete Lei è autistica Vedete Il mio volante qui si è consumato Ho consumato Sì perché ce l'ha tanti anni Ah volevo dire che noi Essere normanti abbiamo bisogno di controllarsi Ma lei non si controlla Lei quando ha fame mangia tutto tutto E anche di più Ehi guarda C'è anche questo ancora Ora beve questa Lasciamo Lasciamo che mangia trantillo Vedo pita rosso fuori tutto fa Impossibile che stanno chiudendo In vostra città C'è pita rosso Andiamo già da Andiamo a vedere Andiamo a girare ancora questo negozio E magari troviamo qualche affare Affare Pita rosso Scrivetemi se c'è nel vostro canale Nella vostra città Questo negozio Pita rosso Amici fuori tutto C'è scritto Tanti sconti Grandi sconti Vediamo se troviamo qualcosa C'è tanta roba Giada già ha aperto Guarda che c'è dentro Ci sono diverse borse qui Dai mettiamo a posto Giada no 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 Questa è brutta 50% no Aspetta aspetta Giada dove siete Ecco siamo qua Siamo qua Lasciamo Non abbiamo comprato niente Perché ci vuole un calma Calma ci vuole Dove è uscita qua Amici mangiamo Mangiamo questi E guardate Questi al naturale Datteri al naturale Speciali Come caramelle Come dessert E proprio buoni 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 Qui andiamo a vedere Zuppa è già pronta Guardate che bellezza Per domani Ora spengo Oppa qua Oppa Guardate Come dolce dolce bolle Guardate che buona Con Questo con farro Con miglio Con Ora non mi ricordo Con le chicche rossi Queste per domani C'è troppo volume Vedete com'è I tre patate Piccoli 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 Questo biologica Zuppa biologica E mangiamo domani sera Perché domani usciamo E tutto giorno Non siamo fuori Siamo fuori E quando torniamo Avremo questa bella Zuppa pronta Io cuscino molto molto spesso Amici A presto Il mio uomo Perché lui è casalingo Lui lava piatti Lui lava piatti E Hanno usato Che hai fatto Hanno usato 50 Fai vedere Aspetta La facciamo vedere I nostri amici 50% Di sconto Ecco Tre strofinaci Bianchi Perché io sono stanca Piccoli questi qua Sono stata in profumeria Amici Sono stata in profumeria E si vede E questi qua Belli Bianchi E anche piccoli No non è tanto piccoli C'è scritto 40x40 Qua in casa Amici Belli Perché è molto brutto Avere quelli colorati Vecchi Voglio buttare 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 E approfittato Approfittato qui 50% Di sconto E' bello Questa si lava Un giorno o due E poi via Via Guardate qui Pagato 10 euro Belli di cotone C'erano righe C'erano altri No 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 Voglio così bianchi E basta Perché casa Mi piace così E poi basta Non ho comprato più niente Ok 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 Ok